Gentili telespettatori, buona giornata. Tornano le priorità del Partito Democratico. Eh sì, eh già, e sono ancora qua, eh già. E quindi, direbbe un mio amico, è quindi... Secondo voi, quale può essere la priorità del PD? Eh? Sono aperte le scommesse. La priorità del PD in un momento di crisi internazionale, prezzi del gas, dell'elettricità, stipendi da fame, gente sottopagata, reddito di cittadinanza, gente sul divano, genti più capaci come canta Vasco Rossi. Dice, ma chissà il PD quale profonda priorità avrà maturato, avrà pensato, ci stupirà con effetti speciali. Oggi che ci sono gli astri nascenti nel PD, c'è Enlischlein, astro nascente, abbiamo Bonaccini, un altro astro nascente. Questi astri nascenti porteranno qualcosa di nuovo, eh? Delle cose che noi umani non potremmo neanche immaginare. Sapete qual è la priorità del PD, Partito Democratico? Ve lo dico? Comincia con la I e la seconda parola è con la S. Ius soli. Eh? Lo Ius soli è la priorità. Sarà nella mozione. Eh sì. Eh sì, eh già, e sono ancora qua. La candidata alla segreteria DEM spiega i punti forti del programma e bacchetta il PD sulle donne. Quindi il PD, il programma di alcuni nel PD è il problema delle donne in politica, che io dico, quale sarebbe il problema? Dove sta il problema? Come dice la Meloni, uomini e donne sono uguali. Non è che devi mettere per forza, dividere al 50% e se non trovi prendi i primi che passano perché devi fare 50 e 50. Ci vuole la meritocrazia, indipendentemente se tu sei uomo o donna o... Sei bravo e hai il posto. Non sei bravo e non hai il posto. Non è che io devo per forza fare 50 e 50. Mentre nel PD la priorità sono questi temi. La priorità è lo Iussoli, che ne abbiamo parlato ed era una delle prime priorità, una delle priorità più importanti di quando Enrico Lett era arrivato da Parigi, no? Il nuovo capo del PD, lo Iussoli dice, come? Ancora? Sempre la stessa roba, ma sempre la stessa cosa? Ma questi ripropongono sempre le stesse cose? Non c'è nessuna idea? Niente? Il vuoto totale? Tu dici, oh, 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 c'è l'eco dentro, quel partito, da quanto è vuoto? Sapete quando è entrato in un appartamento vuoto, col tetto alto, e voi fate, c'è qualcuno, uno, 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 uno... Eh, questo è il PD, uguale, no? Allora, la difesa dei lavoratori. Scusi, signora Paola De Micheli, cosa significa la difesa dei lavoratori? Perché anch'io sono bravo a dire, cosa vuoi fare, la difesa dei lavoratori, e cosa vuol dire? Eh, difendo i lavoratori, da chi? Eh, li difendo, ma da che cosa? Che domande sono? Difendo i lavoratori, eh, più chiaro di così, difendo i lavoratori. Quindi ci sono delle proposte dove dietro non c'è niente, c'è il vuoto assoluto. Difendo i lavoratori, ori, 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 e ce l'eco. La lotta alle disuguaglianze, anche qui, sono titoli di giornale, ma la lotta alle disuguaglianze? Svolgimi il tema, questo è un tema della maturità. Lotta alle disuguaglianze, ok, ma dimmi cosa e come, qual è questa lotta, quali sono i temi, quali sono le soluzioni e quali sono le proposte? Perché il giochino di mettere i titoli, allora io mi metto qua, in dieci minuti vi faccio un programma politico, e voi dite, ma che bello, no? Vi posso scrivere, non ci sono più le quattro stagioni. Cioè, brava, bella, che brividi a sentire queste cose, ecco. E poi c'è lo Iussoli. E secondo voi, allora, lo Iussoli è legittimo, va bene, ma non mi puoi parlare solo di quello. E lo Iussoli, se vai al governo, lo fai insieme ad altre mille cose. Non è che puoi fare un programma politico e presentarti per la segreteria del PD dicendo solo Iussoli. Ma ci siete? Lo Iussoli, che non è poi la priorità nel paese, non può, può essere fatto incontemporaneamente con delle... Allora, ci sono le priorità del, non so, del salario minimo, dei lavori sottopagati, le centrali nucleari, i rigassificatori, le trivelle, cercare il gas. Poi, mentre fai quelle cose, se vai a governare, puoi provare a fare anche lo Iussoli. Ma non puoi venirmi a dire solo Iussoli. Dici, ma e poi? La lotta, le disuguaglianze. Ma che vuol dire? È quello che ho detto. La difesa dei lavoratori. In che senso? È che li difendo. Da chi? Eh, li difendo. Ma che domande sono? Li difendo, i lavoratori. Da che cosa? Dai cattivi. Ah, capisco. Ecco, questa è la sinistra. Questo è il PD. E io mi chiedo, gli elettori del PD, io li vedo commentare sul canale, in Twitter, scrivono bene, ragionano bene. Io non condivido alcune cose, ma sono delle persone intelligenti. Come fate? Come fate a dare il voto a una roba del genere? A una scatola vuota? E loro ti risponderebbero, mi risponderebbero, e che devo fare? Ma chi devo votare? Quella è la mia casa, è una casa vuota, però io sto lì, aspettando tempi migliori. Eh, ma non so se arriveranno tempi migliori. Se questi sono gli astri nascenti, Paola De Micheli, Bonaccini e Schlein, se questi sono gli astri nascenti del Partito Democratico, che ripropongono le stesse identiche cose... Dici, qual è il tuo programma? Eh, YouSoli. Ah, ho capito. Eh, avete capito perché il PD è sceso al 14%? E mi sembra già tanto. Mi sembra già tanto. Secondo me dovrebbe essere un partito da 7-8%, da affiancarsi alla Lega e a Forza Italia, perché il livello un po' è quello. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie a tutti.